momenti di paura in largo cavur un uomo si è barricato in casa con i tre figli alla lanciare l'allarme la moglie eruzione della polizia l'uomo è stato denunciato semaforo rosso sulla civita vecchia orte il tar raccoglie il ricorso delle associazioni ambientaliste contro il tracciato verde progetto bloccato fino a dicembre civita vecchia infrastrutture è fallita lo ha stabilito il tribunale il sindaco cozzolino si dice sorpreso e annuncia ricorso l'opposizione attacca e chiede le dimissioni riunione in comune sul palagrammatico dopo il crollo della copertura si attende l'esito dei sopralluoghi per stabilire i danni e i tempi della ricostruzione e dopo una settimana da incubo la flavioni torna in campo domani al palasport le giallo blu di pacifico affronteranno la capolista conversano buonasera e bentrovati con il telegiornale come avete sentito dai titoli apriamo questa edizione con la cronaca intervento congiunto questa mattina intorno alle 10 di polizia e vigili del fuoco per un uomo che si era chiuso in casa con i tre figli a lanciare l'allarme la moglie di nazionalità marocchina il servizio momenti di paura questa mattina in largo cavur proprio nel centro di civita vecchia una donna di nazionalità marocchina preoccupata che il marito che era in casa con i loro tre figli non rispondeva alle sue chiamate ha allertato i soccorsi sul posto sono immediatamente arrivati polizia e vigili del fuoco con i primi che sono saliti a casa pronti a sfondare la porta dell'appartamento all'ultimo piano dello stabile e gli uomini della bonifazi che hanno raggiunto le finestre dell'abitazione con l'autoscala pochi attimi di tensione hanno spinto gli agenti del commissariato guidati personalmente dal dirigente nicola legna ad entrare nell'appartamento dalla porta in contemporanea i vigili del fuoco che entravano dalla finestra insieme ai poliziotti sono entrati anche i sanitari del 118 che erano stati allertati fortunatamente non sarebbero state riscontrate anomalie all'interno dell'abitazione ma una condizione di apparente normalità con i bimbi che riposavano nella loro stanza l'uomo che a quanto pare aveva chiuso fuori di casa la moglie dopo un prestigio barricandosi dentro con i bambini è stato comunque condotto in commissariato per alcuni accertamenti di rito il marito della donna è stato denunciato dalla polizia sembra inoltre che dalle dichiarazioni della moglie siano emerse delle precedenti liti tra i due in alcuni casi culminate con minacce dopo l'episodio di questa mattina l'uomo ha lasciato la casa colpo di scena sulla civita vecchia orte il tardellazio ha colto il ricorso delle associazioni ambientaliste contro il tracciato scelto per la superstrada il 19 dicembre si terrà l'udienza di merito e fino ad allora il progetto in sostanza è bloccato una doccia gelata per chi punta su un'opera ritenuta fondamentale per lo sviluppo del territorio una vittoria invece per le associazioni che parlano di primo risultato per la tutela ambientale ed esplode invece il caso civita vecchia infrastrutture ad è stato infatti clamore la notizia del fallimento di una delle società che componevano il mosaico delle holding del comune immediate le reazioni in sede politica il sindaco cozzolino si è dichiarato stupito della decisione del tribunale durissimo invece il commento del consigliere di minoranza grasso che ha invitato il primo cittadino a rassegnare le dimissioni il servizio c'era una volta civita vecchia infrastrutture una delle società che componevano la holding comunale dei servizi in particolare quella che nel suo stato patrimoniale ha ancora la rete idrica e due immobili ovvero l'autoparco di via braccianese claudia ed il vecchio stabile di via leopoli che ospita la sede della ex città pulita è infatti stata dichiarata fallita dal tribunale l'istanza di fallimento era stata presentata da un commercialista di civita vecchia consulente di civita vecchia infrastrutture al quale non sono stati pagati per anni gli emolumenti il tribunale ha intanto fissato per il prossimo 13 aprile l'udienza di verifica del passivo la notizia si è appresa nella tarda serata di ieri provocando come immaginabile una sorta di terremoto politico il sindaco cozzolino ha diramato una nota nella quale manifesta il suo stupore per la decisione del tribunale rimarcando di aver avuto la notizia mentre era in corso una riunione per limare il piano che avrebbe riportato in bonus la società per poter poi chiuderla in ossequio al piano operativo di razionalizzazione delle partecipate approvato ormai da due anni il primo cittadino annuncia che prima di decidere il da farsi vuole leggere la sentenza ma che sicuramente il provvedimento sarà impugnato di fronte alla corte di appello di roma visto che si basa su un'istanza dall'importo modesto a cui secondo cozzolino gli avvocati di civita vecchia infrastrutture avevano risposto con solide argomentazioni durissimo il commento di massimiliano grasso per il capogruppo della svolta il sindaco cozzolino dimostra di non avere più nulla sotto controllo visto che ha portato il comune nel fallimento con i suoi consulenti si è inventato un doppio concordato su hcs lasciando la patata bollente alla prossima amministrazione con danno immediato dei creditori e nel medio periodo degli stessi dipendenti dell'azienda ora conclude l'esponente della minoranza cozzolino farà andare all'aste del patrimonio comunale è incredibile ma vero la nostra rete idrica altro che acqua pubblica ha fallito anche lui e dovrebbe avere la dignità di andarsene subito a casa prima di combinare altri disastri anziché avere la faccia tosta di parlare di risanamento di bilancio con una città in ginocchio e da rifondare grave incidente stradale nella notte a cerveteri un 24enne alla guida di una peugeot ha perso il controllo dell'auto in via 7 vene palo la vettura si è ribaltata sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale san paolo di civita vecchia questo pomeriggio invece si è verificato un incidente sull'aurelia nei pressi dell'ingresso sud di ladispoli coinvolte due auto una delle quali si è ribaltata un ferito trasportato in codice rosso all'aurelia hospital sul posto polizia locale e carabinieri con i militari impegnati nei rilievi verifiche in corso invece al palagrammatico dopo il crollo della copertura avvenuto lunedì scorso palazzo del pincio è in attesa di conoscere l'esito dei sopralluoghi tecnici dei periti e dei tecnici comunali per quantificare il danno e stabilire il percorso amministrativo necessario per la ricostruzione della copertura il punto in questa intervista l'assessore allo sport lucernoni Daniela lucernoni si è svolta la riunione tra il comune la flavioni e l'asperativa anche e soprattutto la questione del palagrammatico qual è lo stato della struttura avete visto se c'erano già situazioni precedenti avete fatto dei controlli anche con l'assicurazione riguardo proprio l'impianto di gabetti la riunione di oggi era sicuramente per assicurare la stagione sportiva e assicurare insomma gli allenamenti e le partite della società di pallamano che è insomma il primo problema impellente insieme all'asp all'associazione pallavolo di città vecchia anche al preside mondelli del secondo circolo abbiamo trovato la quadra perché l'asp metterà a disposizione alcuni spazi che ha il palazzetto dello sport e la scuola metterà a disposizione al di fuori degli orari diciamo non sportivi ma scolastici sia il palazzetto dello sport che la paestra della Gianni Rodari per cui il comune darà a disposizione le ore all'asp per quel che riguarda l'extra orario della Gianni Rodari e in questo modo si riuscirà intanto a finire la stagione sportiva per quello che invece riguarda la struttura abbiamo fatto la denuncia all'assicurazione che dovrà poi venire a valutare i danni attraverso un perito e aspettiamo l'esito di quello che sarà per poi capire modi e tempi per poter intervenire. Si sa già quando la Favione potrà rientrare a pallamatico anche per recuperare i palloni oppure il tabellone visto che c'è anche questo problema per quanto riguarda la società gialloblu? Al momento non è possibile ovviamente entrare nella struttura perché deve essere prima valutato il danno e messa in sicurezza so che comunque la federazione sportiva della pallamano si è messa a disposizione per fornire le piccole attrezzature che serviranno a loro per portare avanti sia gli allenamenti che le partite quindi hanno intanto questa disponibilità per il futuro dobbiamo aspettare che ci facciano entrare e non è insomma una competenza puramente tecnica. E' presto ancora per fare una stima dei danni e per capire come si può cercare fondi per risolvere il problema della struttura? Quella struttura è stata tirata su nel 2005 e ristrutturata nel 2011-2012 e non è una struttura che abbia un grande valore perché evidentemente si è lavorato anche in economia. Il danno che verrà stimato è presto per dirlo, non ho le competenze tecniche per farlo. quando poi ci sarà un corrispettivo economico rispetto al danno che c'è stato ci renderemo conto se riusciamo a utilizzare quei fondi per ricreare una copertura per quella struttura a questo punto migliore di quella che c'era oppure se bisognerà aggiungere dei soldi e andremo a chiedere alla Regione o comunque in altri contesti aiuto per poter ridare una struttura alla pallava a mano. Conto alla rovescia per la chiusura della campagna elettorale. Alla mezzanotte scatta infatti il cosiddetto silenzio elettorale ovvero il blackout di partiti e candidati per dare modo agli elettori di riflettere su chi premiare con il voto in programma domenica. Senza entrare ovviamente nel merito dei contenuti va constatato come si sia trattato di una campagna elettorale vissuta in modo completamente diverso rispetto alle precedenti. È stata, tanto per fare un esempio, poco caratterizzata dalla fissione di manifesti e dai vorticosi giri nelle città delle cosiddette vele ovvero dei camioncini che solitamente trasportano i manifesti elettorali 6x3. Le planche elettorali sono state a lungo desolatamente vuote a parte gli ultimissimi giorni mentre segno dei tempi la comunicazione è stata affidata soprattutto ai cosiddetti social che non costano nulla e ai messaggi whatsapp anch'essi assolutamente gratuiti. Hanno invece sostanzialmente tenuto i messaggi sugli organi di informazione nel particolare giornali, quotidiani telematici e tv e le classiche manine ovvero i cartoncini da 6x9 in cui si invita a votare candidati e partiti. Lasciamo la politica, passiamo alla sanità, ancora un taglio del nastro all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Questa mattina è stata infatti inaugurata la nuova sala Gessi che si trova al quarto piano nel reparto di ortopedia. Le interviste. Allora oggi abbiamo inaugurato questa sala Gessi e sarà attiva già da domani, dopo domani insomma per piccole questioni tecniche. È stata potenziata, allargata e poi abbiamo reso ancora più importante il concetto di umanizzazione dell'accoglienza. Troverete una gigantografia dietro le mie spalle, rappresenta il porto di Civitavecchia, rappresenta la storia della città e noi abbiamo voluto regalare ai Civitavecchiesi proprio questo segno di vicinanza attraverso un piccolo gesto e attraverso il ringraziamento mio al Presidente dell'autorità portuale per averlo concesso. La compagnia portuale ha reso possibile l'acquisto di tutto quello che vedete, quindi ha donato gli arredi e alcune attrezzature. Ringrazio Enrico Luciani per la vicinanza non da oggi perché è da sempre e si è sempre più consolidata. Vogliamo che questa sanità sia a un buon livello e a un buon livello e completeremo questa operazione con un nuovo primario che sta per arrivare e l'ortopedia che ha già reso dei grandi risultati farà ancora di più. Ma questo è un segnale che la compagnia ha dato, così come diceva il Dottor Quintavalle, c'è bisogno di sinergia, c'è bisogno di sinergia tra istituzioni, politica ma anche forze produttive. La compagnia portuale quest'anno festeggerà a 121 anni e ha sempre dimostrato attaccamento non solo al lavoro, al porto ma soprattutto alla propria città e quindi quello che oggi abbiamo realizzato è il segnale che anche con un piccolo contributo si può aiutare in questo caso la sanità e il nostro ospedale a migliorare, così come è stato già detto dal Dottore, a renderlo sempre più accogliente, a umanizzare anche il lavoro che si svolge all'interno dell'ospedale. Io quindi un ringraziamento va fatto a tutti i lavoratori portuali perché noi non facciamo profitto, quello che doniamo viene fuori dal lavoro delle nostre braccia e questo è un segnale che spero accolgano anche le altre imprese e che da oggi si crei una rete che aiuti sempre di più a uscire fuori dalle secche dove siamo stati per tanti anni. È bello vedere come la città reagisce e risponde a queste richieste, infatti sono tanti tra fondazione e compagnia portuale che comunque contribuiscono affinché l'ospedale possa raggiungere dei livelli accettabili, quindi noi come amministrazione non possiamo che essere contenti quando si vengono a creare queste sinergie che poi portano benefici a tutta la collettività. Per noi è innanzitutto una grossa soddisfazione perché in un certo senso rappresenta anche un riconoscimento del lavoro dei miei colleghi, ma anche infermieri e tutto il personale che ha lavorato in questi anni anche in condizioni di difficoltà ma è sempre andato avanti senza fermarsi. Per noi è comunque una cosa importante perché visti i numeri dell'ambulatorio ortopedico avere un luogo nuovo dove poter operare è senz'altro importante. La sala Gessi lavora tantissimo con il pronto soccorso, con le prime visite, con i controlli dei pazienti operati e quindi è un volume di utenti molto molto alto. Condizioni inaccettabili per l'Enrico Mattei di Cia di Cerveteri, un plesso scolastico che ogni giorno ospita più di 800 studenti. A quanto dichiarre il sindaco di Cerveteri Pascucci di ritorno dal sopralluogo effettuato presso l'Istituto Superiore dopo l'invito ricevuto dai rappresentanti degli studenti. Muffe lungo le pareti locali con infiltrazioni di acqua piovana e umidità diffusa ovunque, riferisce Pascucci che ha chiesto alla città metropolitana interventi immediati per fronteggiare la situazione. Ripavimenteremo 10 chilometri di strade, quanto annuncia invece il sindaco di Ladispoli, Grando, che risponde così alle proteste dei cittadini dopo che pioggia e neve hanno riaperto voragini e buche. Secondo il primo cittadino, a seguito dell'ultima forte ondata di maltempo, il manto stradale ha mostrato tutti i risultati di anni di incuria e di abbandono. Torniamo ora invece a Civitavecchia, importante riconoscimento per un noto professore, parliamo dell'insegnante Mario Camilletti che alcuni anni fa ha pubblicato un cd che unisce latino e musica con il tramite della metrica. Un lavoro apprezzato in Italia ed ora anche all'estero, i particolari in questa intervista. Professor Camilletti, un grande, bello anche riconoscimento per un lavoro che ormai ha qualche anno, forse un po' inaspettato? Decisamente inaspettato, però... Una bella sorpresa? Sì, una bella sorpresa, direi anche molto veloce. Nello specifico si tratta dell'Università di Cambridge che ha scelto alcuni miei brani di un lavoro che, come giustamente dicevi, è stato fatto un po' di tempo fa. Un lavoro nel quale io ho cantato le liriche di Orazio Virgilio mantenendo la metrica, però dando una veste musicale nuova. Quindi queste canzoni sono state pubblicate su un sito inglese che è un sito a cui attingono insegnanti e non soltanto dove ci sono varie risorse per l'insegnamento del latino. Da una parte la passione per la musica, dall'altra il suo lavoro, quella dell'insegnante, per un lavoro che credeva che avrebbe mai potuto superare i confini nazionali, perché insomma io immagino si è partito come un'iniziativa di divulgazione nei confronti degli studenti, magari della sua scuola anche. Sì, inizialmente era partito proprio con questa motivazione di base, che è quella di riuscire a imparare i classici, soprattutto la metrica, perché noi imparavamo la metrica in un certo modo, forse vabbè anche con delle bacchettate diciamo. Oggi forse è difficile. Dal nostro punto di vista come insegnanti appunto insegnare quindi i ritmi latini, che però sono fondamentali per riuscire a seguire la linea della lirica, insomma diventa sempre più difficile. L'idea è stata, cantiamolo lo stesso in metrica, però utilizzando magari delle melodie moderne, quindi o dallo spazio a Bossa Nova, al pop, al rock, eccetera, eccetera, per rendere tutto un pochino più accattivante. Sì, inizialmente il discorso era nazionale, lo presentai nel 2014 per i 2000 anni dalla morte di Ottaviano Augusto, ero inserito nelle manifestazioni per il bimillenario e quindi lo presentammo in Campidoglio, a Roma, poi anche qui a Civitavecchia ovviamente, e avevo avuto già un contatto con l'Università di Monaco di Baviera, però la cosa era poi finita lì, ci sono dei modi diversi di leggere in latino nella scuola italiana e nella scuola tedesca e quindi questo riconoscimento da parte di Cambridge è arrivato veramente inaspettato. Magari adesso è una bella turniera europea, ma questo non lo escludo per certi versi ovviamente, però diciamo che siamo in contatto ancora per ulteriori iniziative sempre legati a questo, io sono perfettamente convinto che la musica sia il volano per far girare tante tante cose e anche l'erica latina, perché no? Ebbene termina qui questa edizione delle telegiornali, restate però con noi perché tra poco ci saranno le notizie di Sportime 24. Da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Buonasera da Sportime 24, apriamo questa edizione parlando di palla a mano. Dopo una settimana da incubo a causa del crollo della copertura del palagrammatico, la Flavioni torna a giocare nel campionato di Serie A1. Domani alle 16.30 al Palasport, in solera Tamagnini, la gialloblu affronteranno la capolista Conversano che fino a questo momento ha vinto tutte e venti le partite giocate tra Campionato e Coppa Italia. Il coach Pacifico potrà tornare a fare affidamento su Iraldo, ma dovrà rinunciare a chiara buona mano fermata da una problema al pollice della mano destra. L'intervista. Patrizio Pacifico, c'è la gara Casalinga contro il Conversano, ma ovviamente arriva al termine di una settimana da incubo. Come è stato affrontando questa settimana in vista della gara che ci sarà domani? Ma intanto dal punto di vista agonistico abbiamo cercato di mantenere il numero di allenamenti logicamente con le soste dovute più che altro al freddo, nel senso che comunque le temperature non consentivano nemmeno allenamenti. Siamo stati in grado comunque di portare a termine la settimana con qualche novità, nel senso che si aggiunge all'infortunato di buona mano chiara, che ha avuto contrasto fortuito a un pollice, rimasta penso incastrato in una maglietta di allenamento, insomma. Sarà fuori per questa partita. E niente, quindi la partita contro il Conversano già è dura. La settimana non è stata facile, ma diciamo che siamo stati in grado di coprire subito sul piano agonistico tutto, allenamenti, spazi gare, quindi abbiamo reagito prontamente anche a questo colpo. Logicamente parlando della partita, testa coda, quindi non è facile la gara, ma penso che siamo abbastanza motivati a fare del nostro meglio con le forze che abbiamo in campo. Insomma, ricominciamo, sì, senza Chiara, ma riprendiamo Sheila e la gara, l'ultima gara in cui avevamo una formazione simile alle estenze, dove poi si è fatta una Sheila, quindi siamo abbastanza fiduciosi per il proseguo, dobbiamo tenere dura, regare fine alla fine, tenere fuori tutto il resto, che è tanto, ma ognuno ha il suo. Adesso dobbiamo parare a tutto il lato agonistico, ci siamo riusciti, direttivo avanti per altre questioni più problematiche. Per riguardo al campo è sicuramente più difficile adesso conquistare la salvezza anche per il pareggio del Ferrara nel derby, proprio con le estenze. Sì, è più difficile, è difficile prima, diciamo che c'è un punto in più, ma se uno ragiona ha vittorie. È cambiato qualcosa, sì, c'è un punto in più, ma noi dovevamo sempre fare due vittorie in più da Riosto e ancora dobbiamo fare due vittorie in più da Riosto, quindi dobbiamo fare quattro punti in più di loro da adesso in poi e basta. Palla a volo, gara sulla carta semplice per la Margutta Asp nella quinta di ritorno del campionato di C femminile. Domani alle 19 al Palazzetto dello Sport, le Rosso Blu se la vedranno contro il Viterbo, fanalino di coda della Girone A con soli otto punti all'attivo, unica assente Paolini. Dopo due sconfitte consecutive al Palasport, scusate, dopo due sfide consecutive al Palasport, torna in trasferta la serramente Sartorelli Asp. Sempre domani alle 19 i Rosso Blu faranno visita al Pomerzia, ultimo in classifica. In caso di successo, Stefanini e compagni farebbero un altro passo in avanti verso la salvezza. Ginnastica artistica partirà domani da Arezzo, la nuova avventura della SGIN nel massimo campionato federale, che quest'anno si chiamerà Serie A e non più Serie A1. Come è accaduto già la scorsa stagione, la società del presidente per Luigi Miranda avrà impegnate sia la squadra maschile che quella femminile. Particolare la formula, ben 24 formazioni al via, ma solo le prime otto accederanno alla 1 della prossima stagione. L'intervista a coach Marco Massara. Marco Massara inizia nei campionati di Serie A, quest'anno si chiama solamente Serie A per quanto riguarda la SGIN, impegnata da Arezzo sia la squadra maschile che quella femminile. coach, ci dice un attimo la situazione delle vostre due squadre. Allora, la rosa che come potete vedere qui dietro è abbastanza ampia, per quanto riguarda le ragazze, sì, tanto è vero che abbiamo concesso in prestito per quest'anno alcune delle ginnaste che vedete qua dietro ad altre società che competeranno contro di noi, proprio per dare a tutte la possibilità di esprimersi in un campionato come quello di Serie A, che quest'anno sarà un campionato unico, non ci sarà più la divisione tra A1 e A2, quindi tutte qua e 24 le società d'Italia gareggeranno nello stesso contesto. Le ragazze sono a posto, hanno lavorato e quindi insomma sono pronte per affrontare questa gara che non è facilmente prevedibile perché essendo la prima prova del campionato, come ogni anno, è una gara in cui tutte le squadre prendono un po' le misure, cercano di capire qual è il loro posto in classifica, quali sono le loro possibilità, cosa fare e cosa non fare per portare avanti il campionato, quindi insomma una gara diciamo così tra virgolette di studio degli avversari, quindi i pronostici sono molto poco attendibili. L'obiettivo per voi? L'obiettivo per noi, per la squadra, insomma per le ragazze che gareggeranno con Civitavecchia è provare a rimanere tra le prime otto squadre per garantirci la presenza in A1 anche l'anno prossimo. L'obiettivo che ci proponiamo, che chiaramente è quello ma potremmo anche andare in gara e renderci conto già dal giorno prima che non è nelle nostre possibilità, sicuramente è quello di stare tra le prime otto. Se così non fosse, rimanere tra le prime sedici squadre e garantirci comunque la presenza nel campionato di Serie A, 1 o 2 che sia, vuol dire comunque rimanere nella top 15 d'Italia e quindi essere comunque una delle società più forti nel contesto italiano. Per quanto riguarda il settore maschile la situazione è la stessa, loro hanno avuto un'aggiunta di un elemento che è Davide Mazzelli che farà parte della squadra di Civitavecchia insieme a Marco Lodaddio, Andrea Russo, Emiliano Taito, Gian Maria Tosti e Tiziano Perni. Sono tutti ginnassi di altissimo livello tra i più forti d'Italia quindi non posso fare pronostici perché non conosco le squadre avversarie ma sono sicuro che è una delle squadre che punterà in alto quest'anno. Chiudiamo con il calcio a 5. Fabrizio Nunzi deve ancora attendere per il suo debutto casalingo sulla panchina della CPC. La gara contro la Juvenia valevole per il campionato di C2 prevista per domani all'Uriveto non si giocherà perché il comitato regionale della LND ha deciso di rinviare tutte le partite del fine settimana per il maltempo. In questi giorni ha creato molti problemi alle squadre per quanto riguarda gli allenamenti. La gara tra CPC e Juvenia sarà recuperata sabato 10 marzo. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione di Sportime 24. Prima di lasciarci vi ricordo che dopo la sigla andrà in onda come riconsueto la nostra rubrica meteo. Un grazie per l'attenzione ed un buon proseguimento di serata. Grazie.